ben ritrovati a tutti da Francesco Amodeo a questa nuova puntata di fuori dalla matrix voglio rendere chiaro a tutti voglio farlo nella maniera quanto più semplice e comprensibile possibile rivolgendomi soprattutto alla categoria degli agricoltori perché il governo non intende tutelarvi non lo farà non lo farà il governo non lo faranno le vostre associazioni di categoria nonostante la vostra protesta e voglio anche provare a darvi qualche consiglio per far sì invece che quella protesta sfoci in qualcosa di positivo in qualcosa che possa davvero salvare il comparto in questo momento cari agricoltori avete un potere enorme potreste infatti paralizzare completamente il paese la vostra protesta fa paura perché se diventate consapevoli di questo potere che avete diventate compatti nel portare avanti la vostra battaglia allora diventa davvero impossibile ignorare le vostre istanze se invece vi mostrate arrabbiati e frustrati come è giusto che sia dopo quello che state subendo ma inconsapevoli di quali siano le dinamiche che hanno messo il vostro comparto in ginocchio e quindi di quali siano le soluzioni per salvare il settore allora diventate preda della politica dovete sapere che in questo momento la vostra rabbia fa gola praticamente a tutti i partiti soprattutto a quelli che fino a qualche tempo fa si facevano chiamare sovranisti si facevano chiamare euroscettici perché in occasione delle elezioni europee tutti vorrebbero mettere la bandiera sulle vostre battaglia allora cerchiamo insieme di fare chiarezza e smascherare insieme i finti amici quelli che da una parte si schierano al vostro fianco ma dall'altra parte vi colpiscono in questo momento i politici ovviamente sono pronti a farvi tutte le promesse di questo mondo soprattutto quelle che sarebbero chiamati a rispettare soltanto nel breve periodo poi da giugno 2024 in poi ad urne chiuse vi rigettano nuovamente in pasto agli squali allora in questa analisi che andremo a fare insieme non ci baseremo su quelle che sono le promesse che vi hanno fatto per il futuro ma analizzeremo quanto hanno già fatto in passato tutto quello che hanno fatto per mettere in ginocchio il vostro comparto con la complicità ovviamente sia della politica che delle associazioni di categoria nella puntata precedente interamente dedicata al caso degli agricoltori in protesta abbiamo mostrato per esempio un video di salvini del 2 settembre 2022 quindi meno di un mese prima delle elezioni lui interveniva al forum ambrosetti e mostrava delle slide per spiegare al pubblico quanto dannose fossero le sanzioni alla russia per gli agricoltori per diversi comparti in realtà ma lui porta anche l'esempio proprio degli agricoltori e sottolinea anche in quell'occasione quanto quelle stesse sanzioni fossero invece inutili per colpire Putin riascoltiamolo un attimo insieme per quanto riguarda l'agricoltura il problema per molti italiani è domani non è fra sei mesi una stalla su dieci potrebbe chiudere vuol dire 40 mila aziende paolo scaroni ringrazio non accusabile di putinismo io difendo solo e soltanto l'interesse nazionale italiano l'interesse delle imprese italiane l'interesse degli artigiani dei commercianti degli agricoltori lo scaroni oggi sul sole 24 ore perché bisogna dire che le sanzioni qualcuno puniscono italia e germania soprattutto qualcuno avvantaggiano se il gas negli stati uniti costa un decimo rispetto all'italia evidentemente c'è un problema competitivo se in norvegia il reddito pro capite per esportazione di gas l'anno scorso era di 5 mila euro cada uno quest'anno siamo a 50 mila euro cioè dieci volte tanto vuol dire che oggi 4 settembre c'è l'italia la germania e la gran bretagna che stanno soffrendo più di altro cavolo che belle parole quelle che si dicono prima delle elezioni salvini infatti dice che il suo unico obiettivo è tutelare l'interesse nazionale nomina gli agricoltori dice che le sanzioni sono a svantaggio dell'italia fa sapere che si andrà al governo lo farà con la consapevolezza di quanti danni provocano queste sanzioni all'economia italiana poi però avviene che al governo ci va davvero e governa infatti con chi al consiglio europeo firma invece per prorogare quelle sanzioni come vediamo da queste immagini ovviamente inutile dire che la stessa meloni era contraria alle sanzioni alla russia in passato e assolutamente consapevole dei danni che avrebbero arrecato agli agricoltori italiani questo in realtà lo diceva già dieci anni fa quando costruiva la sua ascesa politica proprio al fianco degli agricoltori italiani riascoltiamola insieme la ringrazio presidente noi siamo contenti che il governo abbia raccolto l'invito di fratelli d'italia alleanza nazionale a verini a riferire in aura sulle sanzioni che l'unione europea ha deciso nei confronti della federazione russa ci siamo molto impegnati su questo tema incontrando gli imprenditori particolarmente quelli del settore agricolo quindi fuori dalle istituzioni e dentro le istituzioni con una mozione che abbiamo depositato e con questa richiesta di informativa da parte del governo perché perché noi presidente siamo sinceramente sconcertati dalla leggerezza con la quale il governo italiano sembra affrontare la questione dei nostri rapporti economici e geopolitici con la russia e delle ripercussioni che le sanzioni verso la russia e le conseguenti controsanzioni russe possono avere per l'economia italiana io anche questa scelta dell'unione europea peserà drammaticamente sulla nostra economia lei ci dice ministro guidi giustamente che si stima una perdita per il nostro settore dell'agroalimentare di circa 100 milioni di euro da qui alla fine dell'anno parliamo di 100 milioni di euro in quattro mesi gli operatori del settore danno una stima che doppia perché noi rischiamo di perdere quote di mercato a favore di nazioni esterne all'unione europea certo non stiamo difendendo il nostro interesse nazionale ma che belle parole le ascolti e dici speriamo che questi personaggi arrivino al governo così finalmente lottano lotteranno per l'interesse nazionale ma la meloni non era soltanto consapevole di quanto dannose fossero le sanzioni alla russia ma anche di quanto dannosa fosse una ipotetica entrata dell'ucraina nell'unione europea ascoltiamola la nostra posizione è l'italia ritiri immediatamente il proprio sostegno alle sanzioni contro la russia se l'unione europea non si limitasse semplicemente a eseguire gli ordini del meritatissimo premio nobel per la pace barack obama allora l'unione europea saprebbe che non ha alcun senso oggi forzare l'ingresso dell'ucraina nell'unione europea e nella nato portando inevitabilmente avanti una crisi con l'unione con la federazione russa nello stesso e speriamo che una volta tante concludo davvero si possa difendere i nostri interessi invece di fare i servi sciocchi di interessi altrui poi però arrivano al governo si dimenticano di tutelare gli interessi degli italiani gli interessi degli agricoltori e diventano proprio i servi sciocchi degli interessi altrui come dimostrano queste tre immagini che vediamo insieme meloni collegata con il g7 avanti con le sanzioni alla russia meloni ricostruiamo l'ucraina e presto entrerà nell'unione europea processo di allargamento ue soddisfazione del presidente meloni al consiglio europeo ora è bene ricordarlo perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa abbiamo mostrato il grafico l'ispi ha fatto sapere che l'ipotetica entrata dell'ucraina nell'unione europea costerebbe agli agricoltori italiani quasi 10 miliardi di euro ecco la regia ha riproposto il il grafico quindi è tutto ufficiale qualora l'ucraina dovesse entrare nell'unione europea dal pac per gli agricoltori italiani verrebbero meno quasi 10 miliardi di euro quindi da una parte dicono che l'entrata dell'ucraina nell'unione europea è da scongiurare prima di arrivare al governo poi arrivano al governo si dimenticano degli agricoltori e come diceva la meloni diventano i servi sciocchi di interessi altrui ma andiamo a vedere invece che cosa fa chi intende dall'interno dell'unione europea tutelare il proprio paese tutelare i propri agricoltori il premier ungherese orban quello polacco e quello slovacco hanno deciso per esempio di imporre un embargo unilaterale sul grano ucraino perché a loro dire quello che danneggia gli agricoltori locali distorcendo il mercato ascoltiamo euro news dopo polonia e ungheria anche la slovacchia ha deciso di vietare le importazioni agricole dall'ucraina per proteggersi dall'afflusso massiccio di cereali che sta distorcendo il mercato nazionale abbassando i prezzi a discapito dei produttori locali ovviamente dopo questa scelta l'unione europea interviene subito e fa sapere ai tre rappresentanti di ungheria slovacchia e polonia che i divieti unilaterali di importazioni sono assolutamente inammissibili e non sono consentiti dai trattati europei sentite missione europea però afferma che i divieti unilaterali di importazione sono inammissibili ma il ministro polacco che evidentemente vuole davvero tutelare l'interesse nazionale e quello degli agricoltori e non solo a parole prima delle elezioni risponde che non intendono togliere l'embargo fino a quando quell'embargo servirà a tutelare gli interessi dei loro agricoltori locali il grano ucraino dice il ministro non deve più entrare nel mercato polacco senza regole anzi dice questa è la nostra regola numero uno e non ci importa di quello che è previsto dai trattati europei ascoltiamolo perché non te lo hanno fatto sentire sicuramente nei tg italiani contro la decisione di Bruxelles Barsavia ha esteso il divieto di importazione di grano dall'Ucraina questa è la nostra condizione numero uno deciso a tutelare l'interesse nazionale e l'interesse degli agricoltori agricoltori che da queste immagini devono capire una volta e per tutte che all'interno delle direttive dei vincoli e dei parametri europei non è possibile salvare il comparto come avete visto che ha voluto realmente tutelare l'interesse nazionale si è dovuto imporre e ha dovuto mandare indietro al mittente all'unione europea i loro divieti i loro vincoli cosa che l'italia a quanto pare non intende fare poi c'è orban il premier ungherese che addirittura rincara la dose accusando l'ucraina di aver imbrogliato di aver tradito gli agricoltori ungheresi ascoltate il primo ministro ungherese Viktor Orban sostiene che l'unione europea abbia ingannato il suo paese sulle importazioni di cereali dall'ucraina. bene di tutto questo ne sono andato a discutere personalmente con gli agricoltori in protesta al presidio di roma dove hanno già pronti i trattori per entrare nella capitale volevo capire quanto consapevoli fossero di queste dinamiche guardiamo insieme il servizio che ho realizzato per voi dal presidio di viano mentale allora siamo qui al presidio di roma siamo con agricoltori venuti da tutta italia venuti dal dalle mila romagna dal veneto gente che ha lasciato la propria terra il proprio lavoro che ha fatto oltre 500 chilometri con un trattore a 40 chilometri orari quindi gente che ha le idee chiare e motivata e sa che qui o si fa l'agricoltura o si muore per utilizzare una pratica salve a tutti sono Pasini Daniele vengo da Molinella a Bologna sono venuto fino a Numentana col trattore assieme a altri ragazzi andando marciando su strada per esporre i nostri problemi e soprattutto non solo i nostri ma a livello nazionale i problemi che ci sono in agricoltura e far capire al governo effettivamente quanto vale l'agricoltura italiana assieme a me sono i ragazzi del Veneto sono i ragazzi di Brescia della Lombardia e abbiamo tutti un punto in comune che è il benessere dell'agricoltura attualmente questo viene sotterrato da un'unione europea che fa delle scelte scellerate nei nostri confronti e che ci sta schiacciando su ogni tipo di fronte quindi dobbiamo essere tutelati prima per salvaguardia del nostro territorio e poi perché siamo comunque persone che lavorano pagano le tasse hanno un diritto a una dignità siamo tutti compatti e uniti per portare avanti la nostra voce voce che i sindacati ci hanno negato finora perché fino a un mese fa ricordiamoci che dicevano che problemi in agricoltura non ce ne sono la nostra proposta fondamentale che è quella di avere un prezzo diverso da quello che c'è in tutto il mondo diciamo per i nostri prodotti per il nostro made in Italy e per diversificarlo dalle produzioni mondiali ok io sono venuto essenzialmente anche per capire il grado di consapevolezza da parte vostra dei problemi che l'unione europea sta creando al compatto e che per risolvere questi problemi bisogna fare appello soprattutto o alle istituzioni europee perché il governo nazionale vi può promettere di tutto lo farà sicuramente perché siamo alla vigilia di elezioni europee quindi tutti proveranno a mettere la bandiera su questa protesta tutti proveranno a promettervi di tutto ma quelli che da una parte vi promettono magari di abbassare l'irpef dall'altra parte firmano il trattato con l'ucraina di libero scambio per far arrivare il grano senza darsi qui in Italia quelli che vi dicono che hanno fatto fare all'europa un passo indietro sul pesticida dall'altra parte invece vogliono l'ucraina nell'unione europea che già di fatto è stato certificato che costerà 10 miliardi di euro la sola entrata ai soli agricoltori italiani quindi da una parte levano da una parte mettono io voglio portarvi l'esempio degli agricoltori di slovacchia ungheria e polonia loro sono scesi compatti con i trattori nelle piazze avendo un solo obiettivo bloccare il grano ucraino che stava creando dei problemi enormi in quelle specifiche zone non si sono presentati divisi non si sono presentati con decine di punti si sono presentati con un punto inderogabile hanno costretto i loro governanti a dire pubblicamente che avrebbero fatto un embargo sul grano ucraino una cosa che assolutamente vietata dai trattati europei la commissione europea intervenuta dicendo non potete nella maniera più assoluta fare un'azione unilaterale perché vietata dai trattati i loro governanti hanno risposto ce ne frega dei trattati europei perché questi trattati europei passano sui cadaveri del nostro comparto e dei nostri agricoltori perché sono riusciti a fare una cosa del genere perché avevano la pressione degli agricoltori che erano tutti uniti ed erano tutti compatti su un punto quindi sono stati costretti ad andare contro quelle che erano le leggi europee per ottenere il loro punto noi abbiamo questo grado di consapevolezza di quello che allora a livello di consapevolezza di qualsiasi agricoltore che sia verde giallo e rosso penso che la pensino tutti uguale il problema che ci ha diviso fino adesso sempre state le associazioni sindacali che vanno tenute assolutamente fuori hanno sempre e non hanno mai tutelato i nostri problemi perché se no non saremo qua coi trattori in piazza qualsiasi associazione sindacale quindi da un punto di vista io capisco gli agricoltori dall'altra parte dell'Europa che manifestano ma manifestano perché perché in primis c'è un'associazione un'associazione sindacale unica che protegge i loro voleri se noi abbiamo 20 associazioni sindacali e allora vanno messe da parte l'associazione sindacale bisogna metterla allora le associazioni di sindacali vostre esistevano quando hanno firmato il CETA con il canada si sapeva che era un massacro per gli agricoltori italiani che sarebbe arrivato grano si sapeva che l'Europa era un massacro si sapeva e c'erano le associazioni di categoria l'hanno fatto firmare il Mercosur uguale le associazioni di categoria vostre esistevano quando è stato firmato e si sapeva che dal Sud America ovviamente arrivano prodotti a basso costo dove lì ovviamente la mano d'opera costa di meno però perché lo hanno fatto non perché volevano che voi potevate esportare i vostri prodotti là ma perché hanno bisogno delle materie prime del litio soprattutto dal Sud America ci hanno venduti per l'industria questa industria green che adesso diciamo è l'ideologia green europea eccetera dice noi facciamo questo trattato di libero scambio così noi possiamo contrattare noi Europa possiamo contrattare le materie prime con il Sud America con i paesi che hanno il litio e in cambio loro porteranno tutti i loro prodotti agricoli e vi distribuono ma tutto questo è stato fatto con le vostre associazioni categoria che esistevano non è che sono andate ieri e adesso ci ritorni guardate quante bandiere ci sono le associazioni di categoria basta pensare che la maggiore associazione senza fare il nome dall'altra parte con l'altro braccio importa con i consorsi agrari il grano estero e quindi ha un guadagno dall'altra parte con lo GM glifosato e tutto quello che vogliamo quindi puoi da una parte con una mano difendere gli agricoltori no se guadagni dall'altra parte dalle importazioni automaticamente solo questa cosa dopo si sa benissimo che all'interno del ministero il 90 per cento è gente di quell'associazione lì e quindi via ora non ne facciamo una questione politica perché questo governo non è peggio degli altri anzi i vostri errori sono nati nel passato quindi non è peggio però è anche vero che io ho mostrato video in cui Salvini poco prima delle elezioni era il 2 luglio si presentava al forum Ambrosetti con delle slide e diceva le sanzioni alla Russia hanno creato dei problemi enormi ai comparti dell'agricoltura ad altri comparti mentre non hanno creato nessun problema alla Russia se noi andiamo al governo andiamo con la consapevolezza che queste sanzioni stanno piegando i nostri agricoltori al governo c'è arrivato le sanzioni sono state messe non ha mantenuto la Meloni da una parte dice siamo dalla parte degli agricoltori e abbiamo combattuto in Europa per far sì che i pesticidi venissero autorizzati anche in Italia però dall'altra parte si sta battendo per l'accordo con l'Ucraina l'accordo di solidarietà che con l'Ucraina la solidarietà la vogliono a voi la solidarietà non la mosso però se andiamo indietro è stata la sinistra che hanno firmato i trattati Mercosur quindi è tutto un sistema quindi non bisogna fare appello né alla politica né alla sanzioni di categoria però è importante che la vostra protesta sia unitaria e soprattutto cominciare a dare dei segnali forti il primo a Roma esiste la sede permanente della commissione europea vi aspettano al Campidoglio vi aspettano sotto al ministero vi aspettano sotto palazzo chigi ma si arriva tutto questo sotto la sede della commissione europea vuol dire che voi avete raggiunto un grado di consapevolezza tale che sapete che il vero problema è lì e la risposta può partire da lì per poi passare al governo e risolvere il problema che voi siete qui avete visto una delegazione biparsi sanna che è venuta qui a parlare con voi no e allora bisogna essere consapevoli che la soluzione non arriva dalla politica non arriva dall'associazione categoria bisogna trovare dei punti comuni pochissimi vi ho fatto l'esempio della Polonia loro si sono accordati su un punto embargo al grano ucraino sono scesi compatti hanno costretti loro governanti ad andare contro le leggi europee e soprattutto la consapevolezza che bisogna raggiungere che all'interno delle vincoli e delle direttive europee il vostro problema non può risolvere nessuno quindi quando vi danno una soluzione che non comprende il mettere da parte andare oltre i vincoli e i trattati europei quindi disobbedire a quelle che sono le regole europee il problema non lo può risolvere nessuno abbiamo l'esempio l'Ungheria abbiamo l'esempio la Polonia abbiamo l'esempio la Slovacchia all'interno delle direttive europee il problema non lo risolve poi lo possono rimandare vi dicono l'assicurazione per il trattore l'ha pagata in sei mesi vi danno la deroga vi dicono non pagate l'IRPEF adesso poi magari cambia il governo tra un anno e ve lo rimetto però fin quando rimaniamo all'interno di quelle che sono le direttive europee allora prima cosa bisogna mettere in discussione i trattati neoliberisti trattati di libero scambio che sono andati contro gli interessi degli agricoltori europei si chiama CETA si chiama Mercosud si chiama l'accordo di solidarietà con l'Ucraina per il grano fare opposizione anche alla prossima entrata dell'Ucraina e dell'Unione Europea perché senza regole il granaio d'Europa vi distrugge chiederemo di essere ascoltati dal governo per avere poi un tavolo tecnico in cui discutere un tavolo tecnico permanente in cui discutere di ogni problematica giorno per giorno essere presenti a ogni decisione inerente all'agricoltura questo è un cartellone significativo vuol dire che si è raggiunta la consapevolezza che il vero problema è l'Unione Europea all'interno dell'Unione Europea delle direttive dei vincoli europei non è possibile superare i problemi degli agricoltori quindi il problema è qui gli agricoltori lo hanno capito bene porteremo in strada in maniera pacifica quello che è il nostro rito di protesta per sensibilizzare le persone e per far capire alle istituzioni che siamo qui presenti e abbiamo intenzione di centrare il bersaglio perché è da oltre un mese che siamo sulle strade e siamo venuti qui apposta per ottenere delle risposte tangibili concrete io ci tengo a chiarire che questi trattori sono arrivati dal Veneto dall'Emilia Romagna 40 all'ora non so quante ore di viaggio sono persone che hanno dovuto lasciare le proprie terre il proprio lavoro quindi sono decisi pacifici ovviamente una parola che non c'è neanche bisogno di dirlo però decisi il che vuol dire che come diciamo a Napoli permettetemi canisciuno e fesso complimenti grazie come avrete visto sono andato personalmente a portare la pillola rossa della consapevolezza agli agricoltori in rivolta abbiamo visto che hanno raggiunto anche loro la piena consapevolezza che all'interno dell'Unione Europea non si può salvare il comparto quindi ora non resta che spingere le altre categorie vessate dall'Unione Europea ci sono i pescatori che stanno subendo tantissimo dalle direttive europee ma ci sono direttive europee che mettono in difficoltà anche i proprietari di immobili che presto dovranno adeguarli al cambio di classe energetica sempre imposta dall'Unione Europea ora quello che dovrebbe accadere è che tante categorie tutte quelle vessate dalle direttive europee si mettano insieme si mettano in coda dietro i trattori per liberare finalmente questo paese per farci rispettare come hanno fatto in altre nazioni perché l'Italia deve tornare a brillare l'Italia deve tornare un leader e il nostro made in Italy deve tornare ad essere il prodotto più tutelato e più ambito del mondo staremo a vedere sempre qui ci vediamo lunedì prossimo fuori dalla Matrix al prossimo fuori dall'Unione Europea